Come uno sesso per le vie volò e con il rosso attraversò, mise scompiglio e grande confusione tra le urla dei pedon. Ma giunto al video vive un bel bambin che attraversava col cagnolin, ma la bestiola un tratto gli sfuggì, sulla piazza si fermò. Attento Lidl Doggy, la folla tutta urlò, ma il piccolo cane non badò con un sassolino a gioco. Neppure Sister Mary, nemmeno Brother John, offrendogli un piccolo sicci, richiamarono l'attenzione. Lidl Doggy, ma in quell'istante per le vie suonò la grande tromba di Gerrico, Johnny allora più non esitò e di colpo quindi frenò. Gerrico!